Chi sperava di sentirsi rassicurato dalle dichiarazioni di chi studia i terremoti e di chi per esperienza ha imparato a conoscerli è rimasto deluso. Perché le parole pronunciate ieri dal capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e del presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, hanno descritto scenari non proprio rassicuranti e d'altra parte non potevano fare altro i due esperti arrivati da Roma per partecipare alla riunione in prefettura di Campobasso del centro di coordinamento soccorsi. Hanno detto le cose come stanno, niente di più, niente di meno. Carlo Doglioni, che al vertice dell'autorità che studia i fenomeni geofisici, commentando quanto sta accadendo in Molise dallo scorso 14 agosto, ha spiegato che l'Ingv sta monitorando la sequenza sismica per capire se il numero delle repliche stia aumentando oppure diminuendo. Ogni terremoto ha una storia a sé, ha spiegato, e oggi non abbiamo ancora le chiavi per poter affermare che la sequenza durerà ancora giorni, mesi, o se potrà crescere di magnitudo. Stiamo studiando il fenomeno per capire come evolverà. Insomma, come era prevedibile, nessuna certezza su quello che potrà accadere nelle prossime settimane, ma come ha anche detto il capo della protezione civile Borrelli, sindaci e cittadini devono restare in allerta perché non si escludono nuove scosse, dichiarazioni che hanno una spiegazione che si basa sugli studi condotti dagli NGV. C'è un'area di disvincolo che separa l'Apenino centrale dall'Apenino meridionale. Tutto il Molise è contraddistinto nella parte occidentale dalla tettonica che caratterizza tutto l'Apenino estensionale di alcuni millimetri l'anno, stiamo parlando di circa 3-4 millimetri l'anno. Però questa sismicità a nord di questo allineamento che continua verso le isole Tremiti e a sud fino a oltre San Giuliano di Puglia permette uno svincolo di movimento nella crosta destro che determina questa sismicità. Attualmente sta rilasciando un'energia che evidentemente si è accumulata nel corso dei decenni e secoli passati e stiamo cercando di monitorare questi movimenti, cerchiamo di capire quello che sta succedendo perché per noi ogni terremoto è un esperimento proprio per capire come funziona la natura. Quindi oggi non siamo in grado di prevedere i terremoti, stiamo cercando però di imparare a capire il DNA che caratterizza ognuno di questi eventi. Premesso che i terremoti dunque non si possono prevedere, quello che è certo è che lo sciame sismico è ancora attivo, l'unica cosa da fare è ridurre quanto più possibile il rischio sismico, a cominciare dai comportamenti dei singoli cittadini. La prima cosa che farei da cittadino è quella di chiedermi se la mia casa è antisismica o meno, se è in grado di resistere a un terremoto importante o no. In questa specifica zona dove è in corso la sequenza ora non ci sono stati nel passato eventi sismici importanti, ma questo non significa che non ci possano essere in futuro e strutture simili hanno dato per esempio il terremoto della Capitanata nel 1627 che è stato un terremoto in magnitudo 6.7. Quindi credo che l'importante sia prima di tutto essere a conoscenza del pericolo e cercare di capirlo sempre di più e questo è il compito del mondo della ricerca, ma amministratori, singoli cittadini devono essere consapevoli di vivere in territorio sismico e di adottare tutti i criteri di possibile protezione civile. La tensione insomma resta alta, senza creare allarmismi occorre rimanere lucidi e imparare a convivere con il rischio sismico puntando soprattutto sulla prevenzione.